auguri in anticipo allora il 1943 è stato un anno terribile per la storia d'italia per tante ragioni ma certo un anno di grazia per la musica perché in un anno solo dalla battisti vecchioni questi sono due esempi meravigliosi della canzone ti chiedo se li hai conosciuti perché sono tuoi coetanei è più facile conoscere dalla ovviamente dalla lo conoscevo abbastanza bene per tanti motivi la prima volta che ci siamo incontrati lui mi ha detto dalla 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 professore lei scrive delle belle canzoni però non si capisce un caso e tu cosa ti ha risposto il cavo e ha ragione effettivamente ero esagerato poi è continuata la cosa lui parlava sempre tanto era bellissimo sentirlo parlare l'opposto dell'altro lucio piacere no battisti era una persona riservata ho un solo aneddoto con battisti eravamo a sanremo fino fine anni sessanta e io ero lì mi ha detto ma guardate mi ha detto non concedo autografi ma preso per un fan e io gli ho risposto nemmeno io un incontro diciamo fra due ego diciamo giustamente però lui è il più grande scrittore di melodie che abbiamo mai avuto in italia è battisti e dalla è il più grande è solo secondo in tante altre cose per me numero uno senti invece cambiamo completamente e parliamo di letteratura ti introduco al tema della letteratura non ci crederà mai con questa intervista a belve di rocco casalino guardate non si ricorda le posizioni no mi ricordo il senso delle cose se vuoi ti posso dare il senso non so dei moravia gli indifferenti vuoi che ti racconto di bottler che lei ci double bottler allora oddio no adesso no adesso abbiamo avanti e potevo prepararla però questa che stai male perché sono parole sul mio compito è capito prevederle ste cose ha detto hai ragione comunque il grande fratello invece in qualcosa l'ha aiutato a capire alcune delle sue potenzialità perché lei ha detto ho gestito tutto adesso ricordo bottler prego dimmi madame bovary o sto ma come madame bovary sta peggiorando la situazione il taccone le pesa dopo di che posso dire poter flaubert hanno un sacco di cose sono francesi dell'ottocento allora non potrebbero esserci due persone più diverse di baudelaire e flaubert uno è il mago del realismo ha inventato il realismo flaubert e quello facci vedere che sai bene il francese scrivici il loro nome io l'ho detto la pronuncia flaubert baudelaire però come si scrive uno si scrive in modo molto diverso però hai ragione e baudelaire ora questo qua che ha inventato il realismo le cose stanno come stanno cioè si scrive come si mangia per lui era così quindi tutta realtà è anche da distaccato baudelaire invece era immerso nelle cose questo ha inventato il simbolismo cioè si scrive come non si mangia si mangia anche poco vivendo le poesie ed era tutto evocazioni sentimenti eccetera eccetera in più erano diversissimi come come carattere quello flaubert era spiantato senza una lira viveva in un hotel sperduto in tutte le cose baudelaire voglio dire flaubert viveva in un hotel in una campagna meravigliosa scusa con con la sua famiglia e tutto quanto era un antidemocratico direi abbastanza flaubert addirittura diceva che la scuola pubblica rende imbecilli invece però avevano cose in comune le già dette una cosa che mi ha colpito tutte e due sono stati condannati dallo stesso giudice pinar per diciamo di offesa al pubblico erano pesantini quando scrivevano entrambi alla loro maniera però tutti sono andati il 21 il 1821 entrambi ed entrambi hanno avuto una grande delusione una grande sofferenza hanno avuto di tutto hanno sofferenze fisiche perché baudelaire e flaubert era epilettico baudelaire ha tentato due volte il suicidio sbagliando tutte e due le volte rovinosamente avevano una lentezza incredibile nello scrivere tutti e due uguale hanno partecipato al 48 alla rivoluzione repubblicana dici delle donne che tra un po oppure che ci sta personale questo campanello questa è la donna e jean duval la donna di baudelaire era chiamata la venere nera e lo faceva impazzire lo faceva impazzire quindi anche in questo sono simili perché anche un'altra donna che faccio impazzire poi l'ha menata via la l'ha puttata via era una poetessa non bellissima che si chiamava chloe luis cole e aveva già un marito e un altro amante e lui si è messo come terzo ecco vedi è suonato pure la campanella comunque non si sono sposati posso dire ringraziamo rocco casarino che ci ha permesso di fare una rapidissimo ripasso di vite parallele non aveva colpa è una gaffa può succedere e ora invece introduciamo un'altra oggi parliamo tanto di musica parleremo anche dopo di musica